Ciao da Lucia! Oggi inquadratura un po' un po' strana. Perché? Perché vi ho fatto questi bellissimi, vedete, questi bellissimi scaldamuscoli da stivale. Allora, questo è indossato come bordino messo fuori alzato, mentre questo l'ho indossato rigirandolo sullo stivale, vedete, molto carino, e l'ho fatto in coordinato con la cappa ombre. E quindi, vedete, li ho indossati diversi, quindi non sono pazza, non li ho indossati uno su e uno giù perché mi sono sbagliata, ma per farvi vedere la doppia vestibilità. Quindi potete farli uscire dallo stivale tenendoli sopra, oppure potete rigirarli sullo stivale, come si fa con i classici bordini per le borse. Vedete, è molto molto bello, tiene nascosta la cerniera che di solito dà problemi di, insomma, di smagliature di calze e cose varie. Li trovo molto carini e molto utili, me li avevate chiesti e ho pensato di farvi appunto il tutorial, brevissimo tutorial perché è veramente semplicissimo. Vedete, qui dentro c'è, vediamo se riesco a slacciare la cerniera perché questa cerniera è molto molto duro, vediamo se riesco a slacciare l'altra perché è un po' dura. Ecco qua, vedete, all'interno c'è il punto rete per non fare spessore, vedete, sono molto molto semplici, infatti questo qua è un po' duro da aprire. E io spero che vi piacciano e vi lascio al tutorial, quindi con questa inquadratura strana, ciao da Lucia! Allora, il nostro progetto di oggi lo andiamo a fare di nuovo col naco ombre, proprio lo stesso filato che ho usato per la cappa ombre e vi ridico tutte le caratteristiche nel caso non abbiate lo stesso filato e vogliate comunque delle informazioni su questo. Allora, sono 25% lana e 75% premium acrilico e devo dire che la morbidezza è qualcosa di eccezionale di questo filato. Io ho già fatto, ho già realizzato uno dei nostri scaldamuscoli copristivale, adesso il nome non l'ho ancora deciso perché, vedete, sono ancora un po' indecisa su come chiamarli perché scaldamuscolo mi sembra eccessivo visto che è un copristivale. Vedete, questa è la parte che va all'interno, così, e questa sarà la parte che esce dallo stivale, molto molto bello. Bene, andiamo subito a vedere come si realizza questo bellissimo copristivale. Eccoci qua, allora, per il nostro progetto ho avviato 45 catenelle che sto lavorando con un uncinetto del numero 4. Quindi chiudiamo in cerchio le nostre catenelle, in questo modo, così, ecco qua, e andiamo a fare due catenelle per iniziare con un giro di mezza maglia alta, quindi in ogni catenella di inizio, di base, faremo una mezza maglia alta per tutto il giro. Fatto il nostro primo giro, quindi, cosa facciamo? Come abbiamo fatto per la cappa ombre? Facciamo due catenelle, voltiamo il lavoro, ed ora, questo filato è veramente molto scuro, spero io riesca a farvelo vedere, prendiamo le maglie sottostanti da dietro, quindi entro qui ed esco qui e facciamo il giro di maglia alta a rilievo, quindi in questo modo. Vediamo se non si vede benissimo perché il filato è molto scuro, però cerco di farvi vedere, ecco in questo modo, quindi questo giro sarà tutto così, di maglia alta preso da dietro e questi saranno i nostri due giri che si ripeteranno, quindi un giro di maglia alta preso da dietro e un giro di mezza maglia alta, poi di nuovo maglia alta presa da dietro e mezza maglia alta. E quindi poi vi dirò quanti giri ho fatto io, ovviamente sono assolutamente facoltativi, nel senso che voi potete decidere di farli più alti o più bassi di spessore. Adesso io proseguo per tutto questo giro e ci vediamo in fondo. Ecco qua, sono arrivata alla fine del nostro giro di maglia alta, faccio due catenelle, rivolto il lavoro e vedete che è venuta la costa in rilievo. Quindi questi due giri li ripeto per tre volte e poi chiudiamo con un giro di maglia alta. Ecco qua, fatti i nostri tre giri in successione, quindi mezza maglia alta, maglia alta, avvolgendo la mezza maglia alta sottostante, di nuovo mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta e maglia alta per fare l'ultima costa in rilievo, chiudiamo l'ultimo giro con una maglia alta, quindi in ognuna delle nostre maglie sottostanti, quindi facciamo una maglia alta. Vedete questo tutorial è proprio velocissimo perché effettivamente, scusate ero fuori, effettivamente è un progettino proprio piccolo piccolo, quindi è proprio una cosa velocissima. Abbiamo in pratica fatto più o meno la stessa sequenza della cappa ombre, togliendo però un giro di maglia alta nel mezzo. Se vi ricordate i giri in successione erano tre per la cappa ombre, qua ne abbiamo fatti solo due, in quanto non volevo che fosse allo stesso modo larga, diciamo, perché essendo una cosa più piccola da mettere sullo stivale, non volevo che fosse così, la costina che si crea fosse più larga di quanto non lo sia già. E quindi ho deciso di togliere dalla sequenza un giro di maglie alte. Bene, proseguiamo così a maglie alte fino a fine giro e poi vi faccio vedere come continuiamo. Ecco qua, io ho finito il giro, ho fatto la mia catenella di sicurezza e ho staccato il filo dal gomitolo. Ora procediamo in questo modo. Quindi fatto. Aspettate che provo a allontanare un attimino l'inquadratura, perché tanto non ci serve che sia proprio stretta stretta. Ora cosa facciamo? Noi abbiamo chiuso da questo lato, quindi qua abbiamo fatto l'ultimo giro di maglia alta e ci andiamo a riagganciare all'inizio. Quindi prendiamo di nuovo il nostro gomitolo, facciamo il nostro cappietto, ecco qua, e ci andiamo a agganciare semplicemente, io ho agganciato tra le maglie, quindi senza cercare le catenelle, ho proprio agganciato tra le maglie, parto da dietro così comunque ci rimane sempre il retro sia per un punto che per l'altro, sempre dallo stesso lato, quindi andiamo a agganciarci con una maglia bassissima, ecco qui, dopodiché facciamo 3 catenelle, una catenella aggiuntiva e saltando una maglia andiamo su quella successiva o perlomeno saltiamo lo spazio di una maglia e entriamo nello spazio della maglia successivo in questo modo, catenella, di nuovo saltiamo uno spazio della maglia e andiamo in quello successivo, quindi di nuovo catenella, aspettate perché ho usato un uncinetto secondo me più piccolo di quello che doveva essere, e quindi saltiamo lo spazio di una maglia e andiamo nello spazio successivo, vedete non sono entrata sulle catenelle ma proprio tra le maglie, quindi saltiamo uno spazio in quello successivo, di nuovo catenella, saltiamo uno spazio in quello successivo, facciamo la nostra maglia alta, catenella, catenella, quindi saltiamo uno, vedete, saltiamo questo, entriamo in questo, quindi saltiamo lo spazio di una maglia e saltiamo nello spazietto successivo, questo lo facciamo, allora, io l'ho fatto per tre giri, vedete, se voi avete lo stivale che è leggermente più largo, vi consiglio di fare qualche giro in più, praticamente questa puntorete che stiamo andando a fare, non serve ad altro che ad ancorare il nostro scaldamuscolo, il nostro abbellimento per stivale, a bloccarlo all'interno dello stivale senza creare spessore, perché ovviamente se io andassi dentro lo stivale con questo, il mio stivale è molto stretto, non riuscirei neanche ad allacciarlo, e quindi noi facciamo un puntorete in modo che si occupi meno spazio all'interno dello stivale. Il mio stivale è già molto stretto, quindi a me, sinceramente, anche due giri, neanche tre, basterebbero per ancorarlo nello stivale, ma se il vostro stivale è un pelino più largo, vi consiglio di fare anche qualche giro in più, perché più c'è, diciamo, spessore, quindi più è alto il bordino all'interno dello stivale, più evitate che possa scivolare fuori. Io, ripeto, l'ho fatto basso perché il mio stivale è già molto stretto, quindi sono sicura che non c'è pericolo che il mio stincotto, così gentilmente soprannominato così da Cristina, Cristina la mia amica del gruppo, la mia sister, colei che è amministratrice insieme a me del gruppo Facebook e tra l'altro adesso ve lo ricordo creando con Lucia e Franci, c'è anche Cristina con noi e lei l'ha definito lo stincotto, perché sta sullo stincodi in pratica, quindi non sapevamo che nome dargli e è venuto fuori questo stincotto che è divertente come nome, però vabbè, di fatto è un abbellimento da stivale, sembra quasi quei profilini che si usano per le o-bag, per quindi per essere un abbellimento, di fatto non è che tenga caldo effettivamente, lo chiamiamo scaldamuscolo per comodità, però non è uno scaldamuscolo ovviamente, perché tutto fa tranne da scaldamuscolo. Allora vado avanti, proseguo quindi nei miei due giri che mancano e ci rivediamo al termine del lavoro. Una precisazione, allora per chi non sapesse come si fa il punto rete, per l'appunto si va a fare una maglia alta sulla maglia alta sottostante e ovviamente una catenella sulla catenella sottostante. Io non l'ho specificato, ma ci tengo a specificarlo, perché ovviamente non tutti possono saper fare tutti i punti e quindi faccio questa specifica, è molto semplice, vedete, vado a fare proprio sulla maglia alta sottostante una maglia alta e una catenella, di nuovo sulla maglia alta sottostante una maglia alta e una catenella e di nuovo si ripete questo appunto per tre giri. Ecco qua i miei scaldamuscoli da stivale terminati. Vedete che graziosi che sono? Sono molto graziosi, sono utili. Guardate, io li trovo utili anche perché quando metto gli stivali a volte mi capita con la cerniera di strisciare sulla gamba a fianco e smagliare le calze e questi qua invece mi vanno a coprire la cerniera, li trovo veramente, veramente utili. Però, comunque, se non avete il mio problema esteticamente sono molto carini da vedere uscire dallo stivale. Gli ho fatti con lo stesso motivo, lo stesso filato della cappa ombre perché mi piaceva l'idea di avere un coordinato da poter indossare ed ho usato meno di 50 grammi di filato. Il filato, ve lo ricordo, è questo. Scusate, si vede malissimo. Eccolo qua. Quindi il naco ombre, infatti ho deciso di chiamarli questi saranno le mini ombre e questo sarà il suo nome e se volete il mio stesso filato appunto vi lascio nelle info il link di merceria.spillo che è la merceria dalla quale mi rifornisco e spesso mi chiedete che filati uso dove li prendo e vi lascio il link della merceria. Vi risponderà la mia amica Marisa Marino che è gentilissima e vi darà tutte le informazioni sui vari filati di cui potreste avere bisogno. Benissimo, io direi che questo mini 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 tutorial è arrivato alla fine. Io vi mando tanti baci e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao da Lucia!